Al, mettiamoci al lavoro. Sì, d'accordo. Come potete vedere, abbiamo tolto il vecchio mobiletto con lavandino per sostituirlo con un nuovo modello con due vasche. Chiarissimo, Al. Poi ricopriremo tutto con queste belle piastrelle di un riposante rosa pallo. Guarda, Tim, che quel colore si chiama maracuia. È evanescente, ma ha un corpo solido. Sì, proprio come te. Dopo aver tolto il mobiletto, abbiamo visto che ci deve essere un tubo che non tiene bene e abbiamo deciso di sostituirlo. Dovremmo quindi spaccare il muro in questa piccola zona e per farlo ho deciso di usare una bella mazza da 12 kg. Stami a sentire, Tim. Io credo che potresti usare il seghetto e tagliare quel pezzo di parete. Col seghetto sarebbe un lavoretto più perfetto, ma il divertimento dove lo metti? Perché non sfruttare un'occasione per scaricare un po' di aggressività? E non c'è un modo migliore per scaricarsi che picchiare con una mazza da 12. Dai, fammi largo. Beh, Tim... Sì? Bisogna stare molto attenti a usare una mazza. Lo so anch'io, Al. Si corre il rischio di sfondare tutto il muro. E perché mai dovrei sfondarlo?